Il Comune di Teramo dà il via all'iter per indire la gara a doppio oggetto per la scelta del nuovo socio privato della Teramo Ambiente e regolarizzare il contratto di appalto sulla raccolta dei rifiuti urbani. Il Sindaco d'Alberto annuncia anche la volontà di riscrivere un nuovo statuto per la partecipata municipale dove il controllo dovrà essere essenzialmente pubblico. Altro importante obiettivo del primo cittadino sarà quello di continuare nella politica di riduzione dei costi nella Team per far abbassare sempre di più le tasse sui rifiuti che affliggono i cittadini terramani. Un passaggio importante in cui abbiamo messo un punto dopo la chiusura della procedura di evidenza pubblica fallimentare di Venezia che non ha la stessa valenza di un'evidenza pubblica per l'ingresso di un socio privato per il servizio di igiene urbana, abbiamo fatto partire il percorso, quindi una gara a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio privato operativo di Teramo Ambiente e contestualmente per l'affidamento del servizio di igiene urbana e degli altri servizi che al momento sono oggetto di valutazione da parte degli uffici, partire dai cimiteri che scadono nel 2021 e gli altri servizi che attualmente sono gestiti da Teramo Ambiente. È un passaggio fondamentale perché mettiamo un punto dopo nove anni di gestione precaria, utilizzo questo eufemismo di Teramo Ambiente, una gestione tutta politica al servizio della politica e non dei cittadini che ha portato ad un incremento dei costi, ad una situazione in cui l'affidamento è scaduto, una gara è andata deserta, non abbiamo ancora il contratto, quindi la regolarizzazione è la priorità, quindi rimettere la Team in carreggiata ovviamente in un percorso rispetto al quale dovrà continuare l'azione di riduzione dei costi e di ottimizzazione del servizio. Noi lo abbiamo già avviato in questo periodo, in questa fase, dopo nove anni siamo riusciti a ridurre del 10% la Tari per le famiglie, un risultato straordinario, inaspettato, ma dettato da una linea che è quella di abbattere i costi fissi, di abbattere i costi superflui, di risurre i costi della politica e la stessa linea che stiamo adottando per tutte le partecipate, devono essere società al servizio dei cittadini e non della politica.